Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, abbiamo come sempre uno squarto alla previsione per giovedì, iniziamo dalla mappa delle pressioni perché ci fa vedere appunto una circolazione di bassa pressione in allontanamento verso la Pelinisola Ellenica, ma ancora in giornata con i colori blu, qualche piovasco atteso sul medio basso adriatico e parte del sud. La neve sull'Appennino a quote basse, la tendenza comunque è un miglioramento, si sposta verso est questa zona appunto di bassa pressione, il nord invece guardate è protetto dalla zona alpina, quindi insomma fenomeni sono attesi su Svizzera ed Austria, mentre in pianura padana e sull'arco alpino meridionale, clima nel complesso asciutto. Guardate ancora la variabilità che si allontana sì verso la Grecia, ma ancora in giornata resiste su buona parte del sud. Ultima grafica ci conferma qualche piovasco sul medio basso adriatico e alcuni settori del sud, specie mattinata e pomeriggio, altrove maggiori aperture del cielo, qualche parziale schiarita che non mancherà anche al nord, guardate una giornata tranquilla nord ovest. Le temperature, attenzione però in calo ulteriore al sud per venti freddi di tramontana e grecale, dettagli come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.